Buongiorno a tutti. Allora, prima di parlare del caso Acerbi One Jesus, volevo fare le mie più sentite condoglianze alla famiglia e alla Fiorentina Calcio per la scomparsa di Gio Barone. Credo che le mie condoglianze siano doverose e sentite. Poi parliamo di questo caso che si è scatenato dopo Inter-Napoli delle presunte frasi razziste di Acerbi nei confronti di One Jesus. Io già ho postato un video a riguardo e si sono scatenate le polemiche nei miei confronti perché non ho dato contro ad Acerbi, ho detto che magari è stato frainteso da One Jesus. Ragazzi, io lo ripeto, se Acerbi ha sbagliato è giusto che paghi. Senza ombra di dubbio. Però aspetterei domani che c'è l'audizione con Chinè, il giudice sportivo, verranno sentiti sia One Jesus e Acerbi e si farà chiarezza. Non puntate subito il dito, non mi scrivete ingiurie perché ho detto questa frase. Alcuni mi hanno detto vai a favore dei cartonati prescritti che io neanche sapevo chi fossero. Dopo mi sono documentato e sono gli interisti. A me ragazzi piace la Roma e il calcio giocato. Tutte queste tarantelle lasciano il tempo che trovano. E lui, Acerbi, ieri è stato ascoltato anche dai dirigenti dell'Inter e insomma ha dichiarato che nelle sue parole non c'era alcun intento discriminatorio o razziale. La stessa versione verrà confermata anche nel corso del confronto con la procura federale di giovedì. Probabilmente decisivo per porre chiarezza sulla vicenda che ci sarà domani. Poi il video è improntato su Spalletti. I social si sono scatenati nei confronti del CT della Nazionale. Adesso andremo a sentire cosa è successo. Però fatevi ringraziare ai tanti che lasciano il like, ai tanti che si sono iscritti al canale, ai tanti che mi scrivono commenti, anche magari in contrapposizione a quello che dico, per carità. Il contraddittorio è lecito, però ingiurie perché io non mi sono scagliato nei confronti di Acerbi. Almeno per il momento poi sono pronto a fare un passo indietro. Lasciano il tempo che trovano, ragazzi. Abbiate pietà di me. Cioè, ognuno la pensa come vuole, no? Sempre con rispetto del prossimo. Poi sentiamo cosa ha detto Spalletti a riguardo. Allora, ha detto queste testuali parole il tecnico della Nazionale italiana. Bisogna stare attenti anche quando lo denunciamo un episodio così. Se lo subiamo in maniera così clamorosa, come è venuto fuori. Juan Jesus non l'ho sentito. Ha il telefono spento. Ho provato a chiamarlo. E per queste frasi si è scatenata una polemica incredibile sui social. E praticamente hanno riferito, hanno proferito queste frasi al tecnico di Certaldo in maniera proprio netta e diretta. Allora, alcuni hanno scritto. Spalletti dichiara che bisogna stare attenti a denunciare certe cose. Insomma, Juan Jesus avrebbe dovuto subire in silenzio uno sporco insulto razzista. E ha provato a chiamare Juan Jesus per dirgli cosa? Di ritrattare? Scrive, vabbè, non si dice chi. Poi, un altro. Spalletti non fa una bella figura. Abbiamo sopravvalutato l'uomo Spalletti. Capita a Napoli. Particolarmente scatenati i tifosi partenopei che hanno detto che si è tolto la maschera. Questo è il vero Spalletti. E poi è entrato nel palazzo anche lui. Quindi i social, ragazzi, si sono proprio scatenati nei confronti del tecnico della nazionale italiana che appunto per molti doveva, oltre che insomma allontanare Acerbi, infatti al suo posto è andato Mancini della Roma, doveva scagliarsi contro. Io, ragazzi, non lo so, non lo so come sono andati gli episodi. In campo, io lo ripeto, già ho postato un video a riguardo, quindi non mi date contro perché nel campo sembrava che tutto si fosse risolto, poi dopo invece fuori dal campo è successo il patatrack. Adesso vedremo come andrà a finire pure chi è andato contro Spalletti. Non voglio accusarlo, però anche Spalletti si riserva il diritto di avere certezza per quanto riguarda gli episodi, di come è andato esattamente. c'era un arbitro in campo, ci sono calciatori che potrebbero testimoniare, però è a favore di Acerbi o Juan Jesus. Vedremo, ragazzi, vedremo. Come ripeto, se Acerbi ha sbagliato, si prenderà queste fatidiche dieci giornate, se non erro, e non sono poche. E Juan Jesus ovviamente non deve mai nella vita ricevere insulti razzisti, mai e poi mai, quindi verrà fatta luce, però state calmi, state sereni, non accusate, non offendete persone, anche a me sono state rivolte per partito preso, perché magari ci riserviamo un momento di riflessione per poter dare la nostra opinione, ma non perché siamo furbi, siamo... addirittura uno mi ha detto sei un falso ingenuo. Ma che vuol dire falso ingenuo? Ragazzi, io sono obiettivo, cerco di aspettare di usare il cervello prima di dare la mia opinione. È questa la mia colpa? Come, insomma, Spalletti, no? Ha voluto chiamare anche Juan Jesus per poter avere una situazione un po' più chiara. Juan Jesus aveva il telefono spento, ma non credo che voleva far ridrattare Juan Jesus. Ragazzi, Spalletti è una persona onesta, intelligente, tantissimo, direi, e quindi, secondo me, lasciano il tempo che trovano queste accuse. Poi, ragazzi, fate come volete, se volete accusare, accusate, non lo so, non lo so, io sono fatto così, prendere o lasciare, ragazzi, questo è il mio pensiero. Se poi a voi non sta bene, non è mia colpa. Purtroppo, arrivato alla soglia di 50 anni, non posso cambiare il mio carattere, ma non è che lo faccio perché mi è simpatico uno o meno l'altro. È soltanto perché voglio avere una dinamica, disamina dei fatti, un po' più chiara, perché arrivato a questa età, prima di prendere posizione, voglio avere, ma per quanto riguarda tutti i rami della vita, non soltanto per il calcio, magari prima aprivo subito bocca e gli davo fiato. Adesso l'esperienza mi ha fatto capire che prima di puntare il dito su una persona bisogna essere più che certi e questo non me lo toglierà mai nessuno dalla testa. Ragazzi, vi ringrazio ancora per i like, per le iscrizioni e per chi mi è venuto a seguire su Instagram. Una buona giornata a tutti, dal vostro Enrico Caffarelli. Ciao!